Stiamo cercando di difendere i diritti dell'agricoltura perché qua ci invitano a non coltivare i prodotti in modo tale che se li possono importare come vogliono dall'estero, possono fare quello che vogliono e qua siamo qui non solo per difendere la dignità degli agricoltori ma di tutti i cittadini italiani perché forse non lo sanno che dal 29 di dicembre anche in Italia è consentito utilizzare la farina di grilli. Non ci fanno coltivare il grano, non ci fanno coltivare i maestri, non ci fanno allevare, gli ortaggi si perdono perché non si riesce a gestire con i costi di produzione e poi ci fanno cosa? Utilizzare la carne sintetica, il latte sintetico, i salumi sintetici, l'insalata sintetica e scusate, e gli agricoltori che fanno? Floccheremo la rotatoria oggi e andremo avanti con un sciopero ad oltranza perché non ci fermeremo fin quando non otterremo qualcosa. E' una cosa basilare che conosciamo tutti, conosciamo la problematica del carocarburante sia agricolo che trazione industriale, conosciamo le problematiche di tutti gli agricoltori calabresi che la politica purtroppo ci ignora tutti i giorni, specialmente il sud Italia, nulla togliendo al nord Italia, per carità mi guardo bene. E conosciamo le problematiche di tutti i settori, sia agricoli sia industriali e dell'economia che ci circonda e che purtroppo non è sostenibile per nessuno, soprattutto per gli agricoltori. Dobbiamo partire da una base, se noi valutiamo che tutto quello che ci circonda, il telefonino, il microfono, la sciarpa che c'è addosso viene dalla terra, non viene né dall'industria. Perché se non funziona l'agricoltura, non si coltiva la terra e non ci mettono in condizioni a coltivare la terra, non può andare avanti l'industria, l'industria è una cosa secondaria. Prima si deve zappare la terra e per zappare la terra in queste condizioni, nessuno di questi che ci siamo qua e di quelli che sono assenti possiamo andare avanti a coltivare la terra. Intanto partiamo dal presupposto che ci stanno dando, se sbaglio correggetemi, ci stanno dando 1.500 euro a ettaro per il seminativo, per lasciarlo incolto. Permettetemi, per lasciarlo incolto. E questo, per lasciarlo incolto perché? Ve lo spiego io il perché. Perché dobbiamo agevolare l'importazione degli agrumi, del seminativo, dei cereali, di tutte queste cose. Ma di cosa stiamo parlando qua? Cos'è questa comunità europea? Chi la gestisce è la comunità europea. Cioè il popolo italiano deve, si deve mettere in ginocchio perché? Perché dobbiamo agevolare l'importazione. E chi l'ha detta sta cosa? I miei figli che cosa fanno fra dieci anni? Cosa gli sto lasciando ai miei figli? Ai miei nipoti cosa gli lascio io? Una miseria. Fatemi capire, politica, Giorgia Meloni e tutti gli altri, comunità europea, cosa state facendo?